67. Possessive pronouns, 2. Pronomi possessivi, 2. The glasses. Gli occhiali. Gli occhiali. He has forgotten his glasses. Lui ha dimenticato i suoi occhiali. Where has he left his glasses? Ma dove sono i suoi occhiali? Ma dove sono i suoi occhiali? The clock. L'orologio. L'orologio. His clock isn't working. Il suo orologio è rotto. Il suo orologio è rotto. The clock hangs on the wall. L'orologio è appeso alla parete. The passport. Il passaporto. Il passaporto. He has lost his passport. Lui ha perso il suo passaporto. Lui ha perso il suo passaporto. Where is his passport, then? Ma dov'è il suo passaporto? Ma dov'è il suo passaporto? The children cannot find their parents. I bambini non riescono a trovare i loro genitori. I bambini non riescono a trovare i loro genitori. Here come their parents. Ma eccoli che vengono. Ma eccoli che vengono. You, your. Lei, il suo. Lei, il suo. Com'è stato il suo viaggio, signor Müller? Where is your wife, Mr. Müller? Dov'è sua moglie, signor Müller? Dov'è sua moglie, signor Müller? You, your. Lei, il suo. Lei, il suo. How was your trip, Mrs. Smith? Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt? Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt? Where is your husband, Mrs. Smith? Dov'è suo marito, signora Schmidt? Dov'è suo marito, signora Schmidt?